Benvenuti in questo video, io sono Giorgio e andate sui miei, questo è Traffic Jam Car Puzzle Allora, in questo episodio andremo comunque ad andare avanti Naturalmente vi farò vedere tutto, per i nuovi sono connessi questo è un gioco di abbinamento con i veicoli Quindi macchine, autobus, vari ostacoli che ci sono durante il livello Adesso andiamo a livello 82, help the ambulance, vedete qua abbiamo direttore l'ambulanza a uscire Macchine viola? Ah no, non sono le macchine viola, mi hai mentito Io pensavo c'erano le macchine viola, invece non ci sono Vabbè, c'è stato solo una volta le macchine viola Vabbè, allora il blu lo mettiamo qui Ok, così il rosso se ne va Di rosso lo mettiamo qui sotto Ok, ok, vai Eeeh, che combo Eeeh, non sto troppo bravo Eeeh, vabbè che combo Ok, allora adesso Adesso dobbiamo arrivare il giallo Dobbiamo levare il giallo Quindi lo metterò sul giallo L'autobus lo mettiamo sul giallo Quindi diventa giallo Il verde lo mettiamo Lo mettiamo qua in alto Il giallo Ok, così leviamo il giallo Ah, va di dirà l'ambulanza Eeeh, chi lo sapeva L'ambulanza è curvato Vabbè, c'era la freccia ma non pensavo che anche l'ambulanza ci andasse Allora facciamo Facciamo blu L'autobus lo mettiamo sul blu Ok, così il verde si unisce E l'ambulanza va Ok, fatto Manca l'ultima ambulanza Solo se noi mettiamo il L'auto di dietro Fa la curva e gira di là Quindi non riusciamo a fare Dovrei levare il Il verde Quindi il blu lo buttiamo via Facciamo così Lo buttiamo via Il rosso lo buttiamo via Il giallo lo buttiamo via Lo mettiamo qua in mezzo Il verde, ok Il verde va bene Blu E magari il blu lo mettiamo qua Così quando si abbina il verde Il blu si abbina automaticamente Giallo Rosso Dammi il verde Ok, verde, grazie Quello è il blu si deve abbinare da solo Ah no, si sposa l'ambulanza Ah, allora Non lo so Blu qua Rosso Giallo Autobus Ah, dopo passavo lì sotto Quindi l'abbiamo già perso Abbiamo già perso Devo liberare altre auto Vedete, abbiamo perso Perché non è facile Perché questi livelli sono un po' complicati Se non riuscire a fare il livello Entro quest'episodio Questo lo farò off camera E poi E poi Dal prossimo episodio Cominciamo dal prossimo livello Naturalmente vi provo tutti i livelli In video Quindi non faccio il lavoro off camera Facciamo Facciamo verde qua Blu qua sotto Giallo L'unico giallo era quello Quindi io dovevo abbinare Forza lì Blu Ok Rosso Ok Ok Grit Grazie per il complimento Allora Adesso Dovrei fare Eh Dovrei fare il verde Cioè Ho il verde O il blu O Potrei fare il rosso però Però si è fatto il giallo in fondo Però il giallo in fondo non posso farlo Perché c'è la freccia Quindi non posso farlo il giallo in fondo Con il giallo si sposta da solo Quindi è inutile farlo Ragioniamo bene Cosa fare Io butterei sul rosso Ok Giallo Giallo lo mettiamo Eh lo mettiamo in fondo Non mi doveva uscire il giallo Però Verde Rosso Ok Blu Giallo Giallo Verde Ok Se si spostava il blu era meglio Però non si sposta il blu Quindi Rosso Blu Ok Verde Va solo qua E blu Eh Do Non riesco a metterlo O lo metto qua O lo metto sulla parte Giallo Ok Si sposta quello Se ne va via Ok Autobus Se facciamo il blu Dovrei No però non ce la faccio lo stesso Dovrei fare la polizia Però la polizia Non vorrei utilizzarla Giallo Eh mi servirebbe un altro giallo Non vorrei utilizzare la polizia Perché magari mi serve un altro livello più avanti Più difficile Retri Ok Facciamo questo Sette minuti Andiamo avanti Ci riproviamo E' complicato come livello Perché non aggiungono le difficoltà Ma Quelle che ci sono Sono un po' fastidiose Ok Qua ho abbinato un po' di roba Perché se invece il colore giusto Faccio La combo Ok Ho fatto scappare con la polizia O l'ambulanza lì Va bene Poi Potrei fare il giallo Però il giallo è incastrato da sopra Quindi devo Devo fare un altro colore Però se faccio il verde Il blu va giù E intanto il giallo Devo levare Devo levare il blu Devo levare il blu Quindi la metto il blu Ok Ok blu Quindi va bianco quello Il blu lo mettiamo Lo mettiamo qua Perché se va giù Si abbina con l'altro blu Allora facciamo verde A questo punto Ok Autopus L'autopus lo mettiamo Potrei metterlo sul giallo Lo mettiamo sul giallo Ci proviamo Vediamo se va bene la fortuna Quelli che devo andare via Perfetto Ora se mi capita un verde Non capita un verde Peccato Mettiamolo Mettiamolo qua Blu Mettiamolo qua sopra Dammi un verde Grazie per il verde Ora se va bene Se è giallo Se è giallo Se è giallo Se è giù Ok Ok Dammi giallo Grazie per il giallo Verde Ok il verde Non so dove metterlo Magari mettiamolo qua Così liberiamo lì Giallo Adesso se mi trovi Da un verde Che deve finire il livello Ce l'abbiamo fatta Senza usare power up Ce l'ho fatta Ah no quello lì Da muovere Ah ok Era lì contrario Allora mettiamoli Sul verde Pensavo di dire È finito È verde ok Fatto Adesso l'abbonanza Se ne va E l'abbiamo Comportato di livello Missione complete Ok Fatto Next Ok I video non li guardo Grazie per l'offerta Ma non li voglio guardare Ok adesso proviamo All'83 Se non ci riesco Lo faccio Off camera E poi ve lo porto Vi porto l'84 La prossima volta Se riesco a fare l'83 Ovviamente Perché Non si sa mai Magari è un po' difficile Quindi Faccio un po' di fatica Ah qui c'è la sbarra Cino i coni E c'è l'erba Io devo riprodurre l'erba Allora facciamo Verde Così i rossi scendono Rosso qua Così le abbiamo la sbarra Giallo Giallo Potrei metterlo Qua Ok Così si libera un po' di roba Rosso Rosso lo mettiamo qua Così la sbarra Se ne va Ok Adesso Sei un po' Ingombrato In mezzo Ma dovrei riuscire a farlo Giallo qua Verde Verde Potrei metterlo qua sopra Giallo Usare le abbiamo i coni Liberiamo anche l'erba Così possiamo moltiplicare l'erba Perché Qua Non è che i veicoli I veicoli dovrebbero inquinare Quindi dovrebbero Dimunire il verde Invece qua Moltiplicano l'erba Quindi Va bene Verde Fatto Facciamo Facciamo rosso Autobus L'autobus Possiamo metterlo Potrei metterlo sul Rosso O sul verde Potrei fare verde Facciamo verde Ho ancora 18 mostre Quindi Ce la dovrei fare Giallo lo mettiamo qua in mezzo Il rosso lo mettiamo qua Il rosso lo mettiamo qua Ok Verde Verde lo mettiamo qua Così possiamo tipica l'erba Ecco perfetto 8 di erba mancante Facciamo giallo Quindi facciamo più erba L'autobus L'autobus Lo possiamo mettere Allora Potrei metterlo Sul verde Potrei mettere sul verde Poi facciamo il rosso Verde lo buttiamo qua in mezzo Ho un piano Quindi lo metto in mezzo apposta Verde Un altro verde lì Rosso Lo mettiamo qua Perfetto Rosso Lo mettiamo qua Dammi un verde Ti prego Grazie per il verde Ok Questo è combo a 5 Fatto Livello fatto Ok Ambulanza Polizia volevo dire Non confondiamo la polizia con l'ambulanza Che è una cosa diversa Pubblicità Pubblicità Grazie pubblicità Grazie Grazie Guarda Io ce ne ho proprio bisogno Pubblicità Grazie Non guardate la pubblicità Perché qua È un casino 84 Aiuto Aiuto l'ambulanza Livello difficile Quindi è un po' più complicato Nel prossimo episodio Perché siamo già a 13 minuti Quindi l'episodio finisce qua Nel prossimo episodio Vi dico subito Che questi episodi Magari inizialmente Li nominavo Secondo le nuove difficoltà Adesso Siccome non sto ripetendo Nuove difficoltà Vi nominerò gli episodi Secondo quello che c'è nei livelli Quindi se a caso Vi ridico i stessi titoli È perché ci sono Nel livello Le stesse difficoltà Quindi non Non vi faccio Un titolo Tanti titoli diversi Perché Magari si può ripetere Perché io vi faccio Tutti i livelli Non ve ne salto uno Quindi a meno che Proprio non riesco a farlo E lo faccio la volta dopo Però non Lo faccio a camera Però non Non in questo caso In questo caso Abbiamo fatto due livelli Li abbiamo passati E l'84 Sarebbe da fare Nel prossimo episodio Quindi va bene Io spero che il video Vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un like Se così è stato A livello 90 Si sblocca una nuova zona Vedremo cosa sbloccheremo Più avanti Per ora siamo Nelle zone costruzioni Zone Veicoli Quindi stiamo Proseguendo con l'avventura Quindi Io le invito Un like Un commento Per dare la vostra opinione E se vi arrivi al canale Condividete E noi ci vediamo Nel prossimo video A presto